Ciao! Se stai cercando la risposta alla domanda nella copertina, beh diciamo che la risposta non sarà semplicemente diretta Sì, che bello, festeggiamo tutto insieme, finisce qui e dura 10 secondi il video E no, la risposta non è solamente un no, è tutto un bait incredibile con plotti qui a destra e a sinistra Diciamo che la soluzione e la situazione sono nel mezzo, ma dobbiamo parlarne un attimo Prima di tutto un veloce aggiornamento per chi non ha seguito nulla, non segue i social, non sa che cosa succede Ed è che magari ha solamente me come fonte di aggiornamento per le situazioni Abbiamo un post pubblico di l'altro ieri, oramai forse rispetto a quando lo sto registrando Di Papa Smoothie, che sarebbe il responsabile, uno dei responsabili più alti su Wild Rift Lo avete anche già visto, eccolo, è lui, lo avete già visto nei vari champion, cioè nelle patch preview Quindi comunque un volto pubblico, qualcuno che conosciamo, qualcuno che segue questo gioco da tanto tempo E in generale, per quanto mi riguarda, rispetto anche ad altre persone che ho visto lavorare Con le quali ho semi-lavorato, dipende, qualche piccola cosa che ho fatto in background tempo fa Mi è sempre piaciuto molto, mi ci sono trovato bene E sono infatti contento di vedere che sta dando informazioni pubbliche E che sostiene, tra l'altro, poi lo vedremo anche più avanti Che fa parte del loro piano per il 2024 Quello di continuare a essere più puliti possibili sui social Nel cercare di dare informazioni Quindi questa persona ha dato informazioni sullo stato attuale del matchmaking Se volete sapere perché e come sta arrivando tutta questa situazione Ho due video sul matchmaking Purtroppo non si può fare un riassunto qui Diciamo solo che la situazione delle ranked in particolare È veramente oscena Abbiamo due stagioni e un pezzettino di quella attuale Che sono state ormai molto rovinate dalla situazione del matchmaking Il problema è che non risolveremo tutto qui Anzi, però prima di darvi delle mie considerazioni Andiamo a leggere quello che c'è scritto qui Quello che ha detto Ve lo traduco nel frattempo E vi do anche delle considerazioni momentanee in base a quello che leggiamo Giusto una nota prima di cominciare Lo stato attuale del matchmaking E il motivo per cui probabilmente hanno deciso di rilasciare questo statement È per giocatori come ad esempio il top 1 europeo Ora non so se lo è esattamente oggi ma lo era ieri Lo era l'altro ieri Che si chiama tipo Merck Merck Non ricordo esattamente il nome Ma con tipo 80% di winrate Giocando solamente Tryndamere Inting Quindi andava a suicidarsi A prendere soltanto le torrette Alcuni di voi già conosceranno questo playstyle Con un KDA osceno Quindi un KDA Il rapporto uccisioni Insomma morti assist E dove praticamente Queste persone vanno a manipolare Il gioco Il matchmaking Per riuscire a vincere più facilmente E nota personale a parte Se giocate così E se vincete così Il vostro rank non vale niente Cioè una persona che arriva così All'80% di winrate Non è forte Sì poi c'è tutta la questione del cima Il macro Le torrette Non state giocando veramente al gioco Come è pensato per essere giocato State abusando di un sistema matematico Quindi complimenti Ma non siete veramente forti Tanto quanto lo dovrebbero essere persone con quel winrate Ad ogni modo partiamo con la prima frase Qui parla della most ranked recent season Coming to a close Forse questo post Dove essere un po' più Più vecchio Perché in realtà Noi abbiamo appena incominciato La nuova ranked season Ma va bene Vogliono parlare di uno dei topic Più caldi Del momento Cioè il matchmaking In particolar modo Riguardanti il KDA Quindi quello che vi ho spiegato prima Prima di tutto Vuole essere sicuro E vuole mostrarci Che loro vogliono Che le persone Vincano Come goal principale Più è che Vogliamo che voi vincete Questo è un nostro goal E il nostro supporto I nostri sistemi di supporto Dovrebbero incoraggiarvi A vincere Qui in realtà Ci sarebbe da fare Un'intera digressione Su questo Perché Tecnicamente parlando Tutte le compagnie Di videogiochi Competitivi Non vogliono Che vincete troppo Perché Se vincete troppo Vi stancate facilmente E dopo un po' Vi rompete In realtà Il goal principale Della maggior parte Delle aziende competitive E tenervi tra un 48 e il 52% Dove vincete abbastanza Perdete quel tanto Non troppo E quindi continuate a giocare Questo poi è completamente Un altro discorso Comunque Continua Vediamo Stiamo vedendo Una cosa importante Questa è una cosa importante We are seeing Edge cases Quindi casi limite Attenzione perché Questa è la cosa Molto importante Scritta in questo post Perché loro parlano Dei casi limite E di come alcune cose Che andranno a sistemare Riguardo i casi limite Comunque Dove giocatori Tentano C'è scritto To game the system Cioè di fregare Il sistema E trovare Dei match Più semplici Insomma Più favorevoli Nei loro confronti Manipolando Il proprio KDA Ci sono due Casi limite Che abbiamo visto In questo Cioè che abbiamo Manifestato Insomma che abbiamo visto E li va ad elencare Caso numero uno I player che provano A utilizzare La propria vita Proprio quindi Quando uno va a morire Tante volte di fila Per prendere Dei vantaggi Come il danno Sulle torrette O la pressione Nelle altre corsie E infatti Tra parentesi Scrive Vedo Sion Vedo Sion Cioè quello che intende Sappiamo che ci sono Player con Inting Sion Inting Trindamer Inting Garen E chi più ne ha Più ne metta Che li ha trovati Che vanno lì Si buttano sulle torrette Colpiscono la torre Non colpiscono gli altri Prendono meno assiste possibili Si suicidano E cercano di finire la partita Solamente in quel modo Che anche qui Vi giuro Non so Che divertimento Trovano le persone Che fanno questo Perché Che divertimento Qual è il bello Di andare lì A suicidarsi H24 A colpire un oggetto Statico Sulla Sulla mappa Vabbè Io poi Ognuno Ognuno piace Quel che piace Vediamo poi Il secondo Edge case Che viene Messo qui E che sarebbe I giocatori Che tentano Di rovinare Il loro KDA In una situazione Di vittoria Così che Nella prossima partita O nelle prossime partite Abbiano dei match Più favorevoli Questo Che cosa intende? Che tu magari Stai vincendo Stai tipo 30 kill A 10 kill Avete visto Avete presente Quei match Che ogni tanto capitano Dove stiamo Stra mega vincendo E gli altri Stanno perdendo Ecco In quei game lì Invece di andare 10-0 Perché stiamo Stra vincendo Io a un certo punto Non io in personale Ovviamente Vado a uccidermi Suicidarmi Sotto le torrette 1 2 3 4 5 6 7 Volte Cercando di Abbassare Le mie statistiche E le mie cose Convinto che Tanto vinciamo lo stesso Perché abbiamo Così tanto vantaggio Che vinciamo Finiamo per vincere Ma nel frattempo Io ho abbassato Le mie statistiche Pertanto Non sarò considerato Così tanto Forte Come qualcuno Che avrebbe vinto Rimanendo 10-0 E questo andrà ad influire Sui match successivi Questa cosa è importante Da considerare Perché Perché sia loro Che ce l'hanno detto Qui adesso ce lo va A ripetere Ma è una cosa Che sapevamo già Che era già presente Non consideravano Solo le vittorie E le sconfitte Per mettervi in un match Contro qualcun altro Ma Considerano tante cose Le varie statistiche Quanto Anzi andiamo avanti Dai ve lo spiego a lui tanto Continua infatti Dicendo Non vogliamo Obbligarvi a decidere Cioè non vogliamo Decidere come dovete Vincere voi Le vostre partite Cioè il modo In cui vincete Le partite Ma Crediamo che Sia salutare Di avere Una varietà Di modi Per arrivare Alla vittoria Allo stesso tempo Non crediamo Che bisogna Che debba Scusatevi Essere Possibile Manipolare così Facilmente Il sistema Delle ranked Non è esattamente Non è scritto così Ma c'è scritto Vogliamo Farci Cioè far presente Qui buttarci Nel mezzo E dire Ok vi diamo Una mano E vi aiutiamo Perché ci sta Troppa gente Che sta manipolando Il sistema Delle ranked E il problema Principale Di questa cosa qui È che non è Una manipolazione Salutare Avere persone Che vanno 0-10 In game Solamente perché Si stanno passando Il KDA O perché vogliono Vincere in quel modo E a volte Le carriamo anche Non è divertente Perché Ricordatevi Che a parte Qualche Persona Che fa il pro player Qualcuno che fa i cotornei Cose che tra l'altro Neanche ci sono così tanto In questo periodo A parte loro Noi giochiamo Comunque Perché il gioco ci piace Perché ci divertiamo Ed è bello Fare ranked Ed è bello vincere Ma è bello anche giocare Le partite Decentemente Ma lasciamo questa Filosofia Per la fine del video Andiamo avanti Qui dice Wildrift Il sistema Di matchmaking rating Quello di cui abbiamo parlato Infinite volte Il sistema Su Wildrift Usa un algoritmo Che incorpora Una moltitudine Di fattori Come Perdere Vincere Il KDA Dove siamo stati messi in corsia I team fight Cioè come parte Quanto partecipiamo I team fight Il danno preso L'ealing Cioè le cure fatte E tanti altri Il nostro obiettivo È di ricompensare Tutte le Tutti i comportamenti positivi All'interno del gioco E il KDA È solamente uno Di questi fattori Questo Quello che vi stavo dicendo Poco fa Prima di iniziare Questo paragrafo È che La Riot In questo caso Già utilizzava Tutti questi dati Per decidere Come piazzarvi All'interno delle partite Probabilmente Anche se qui Non c'è scritto Il KDA Come abbiamo scoperto Tramite gli inting Sion Inting Trindamere e tutto Era un fattore Più alto E più dominante Di altri Perché a quanto pare Avendo un cambiamento Nel proprio KDA O magari anche Nel gold per minute Che qui non viene menzionato Ma quanti gold facciamo Avevamo Uno squilibrio O comunque Una manipolazione Più facile Tra l'altro Più avanti Voglio fare anche Qualche considerazione Riguardo a questo Riguardo al matchmaking E riguardo a Come dovrebbero essere Le partite Però finiamo prima L'articolo In realtà non siamo Troppo lontani Ma è uno di quei video Dove voglio prendermi Il tempo per spiegarvi le cose Darvi le mie considerazioni Traduzioni E quant'altro Continuo dicendo An adjustment We're rolling out Quindi qualcosa Che stiamo facendo Uscire Quindi with the next patch Cioè quella che è uscita oggi Tecnicamente parlando Sarà di Aumentare Il peso Delle vittorie E delle sconfitte Quindi nel Vincere o perdere Una partita Relativo Agli altri fattori Non solo Vincere o perdere Punto Ma Relativo agli altri fattori Ora Ora questo cosa vuol dire Vuol dire che se Prima Quando il matchmaking Rating faceva i suoi calcoli Prendeva 5 dal KDA 1 dalla vittoria 2 dalla sconfitta 1 dal danno 1 dalle cure Il KDA era quello che pesava di più In questi fattori Andava a creare Insomma Il vostro matchmaking rating In teoria Con questo cambiamento Anche se non sappiamo Di quanto Cambiano questi numeri Per quanto ne sappiamo Potrebbero abbassarlo di poco E potrebbe comunque restare Il fattore dominante Non lo sappiamo Però Parlano qui Del vincere e perdere Come fattore più importante Andranno quindi A cambiare questa cosa E il fatto che abbia utilizzato Weight Cioè peso In questo caso Che andrà a pesare di più Saranno le vittorie E le sconfitte Quindi cambieranno Questa cosa interna Della formula Ma Secondo me E pure qui Mi piace Faccio nella parte Delle considerazioni finali Del video Noi avevamo già qualcosa Che era più vicino a questo Perché non so se Ci fate caso Ma questa situazione E di questo tipo È diventata così tanto brutta Nelle ultime due season e mezzo Prima non era così tanto brutta La situazione che i DA E persone da carriare Comunque Ora finiamo questo articolo Ora Il risultato Della tua partita Sarà più significante Rispetto a quello Che andrai a trovare in futuro Quindi Quando andrà il matchmaking A cercare le partite Terrà più conto Di se del fatto Sei vinto Sei perso O in generale Quindi qua Probabilmente si intende La win rate Alla fine della fiera Qua dice La cosa più importante Che puoi fare È semplicemente Supportare la tua squadra Verso la vittoria Per vincere E provare Ad abbassarti Il KDA Non sarà una strategia Più valida Il concetto è Giocate Sto cavolo di gioco Come va giocato In 5 Quindi giocando di squadra Portando dei vantaggi Giocandovi Gli obiettivi Utilizzando i vostri Campioni correttamente E non provate Ad abbassarvi Il KDA Perché Non funzionerà E qui poi partirà Tutto il filone Di persone Però così Sistemano solo Linting Sion E linting Tryndamere Ma non si risolvono Veramente il problema Attenzione Probabilmente C'è una parte Di verità In questo Ma onestamente È comunque Un passo verso Qualcosa di più Salutare Io non voglio avere Persone In squadra Che vanno 0-10 Di proposito Che vanno A entrare In quel modo Anche se Il sistema Delle ranked Rimane Identico A quello Attuale Con tutti i problemi Che ha Delle persone Più deboli Insomma Non qualificate Per quel rank E tutta la parte Insomma Che non ci piace Adesso Delle ranked E anche qui Voglio fare proprio Una considerazione Personale Adesso Appena finito L'articolo Comunque Almeno Non ho Quella gente Lì In squadra Quindi Questo Per quanto mi riguarda È comunque Una vittoria Continuo dicendo Ci sono più Miglioramenti Che vogliono Che vogliono Fare Per quanto riguarda Le vostre ranked Abbiamo pianificato Di essere più Precisi E più veloci Insomma More timely Timely È proprio Una scelta Di parole Un po' molesta Perché vuol dire Di farlo in tempo Ma in tempo Per chi È come quando Le compagnie Dicono Soon Che vuol dire presto Non si sa Comunque Tecnicamente parlando Di essere più veloci Nelle loro risposte Riguardo al nostro Feedback E per quanto riguarda Gli aggiornamenti Riguardo al matchmaking Infine Voglio Vogliamo Ring Cioè voglio Ringraziare Tutti i giocatori Che hanno Dato le loro opinioni Voicing Vabbè Diciamo che qui Della serie Vai Grazie per averci dato Questo feedback Cioè che ci siamo lamentati Come maialozzi Per mesi Più o meno è questo Grazie per esservi lamentati Come maialozzi Per mesi Questa cosa qui È tremendamente importante Per valutare Le nostre performance E Vabbè Qui utilizza una metafora The ball is on our court now Cioè come Palla a noi Palla a noi Dobbiamo ripagarvi Con dei tangibili Cambiamenti Che possano Migliorare La vostra esperienza Giorno per giorno Quindi Della serie Cercheremo di avere Di fare i cambiamenti Più velocemente possibile E di fare in modo Che essi siano percepiti Nonché Abbiamo qualche altra risposta Qui Qui vabbè Parlano di casting Qua Ci abbiamo Una per diciamo Il concetto Qual è Che ora Qualcuno si sta già lamentando Della serie Che a sistemiamo L'intenzione Ma i I good I giocatori Buoni Ecco scusatemi Dovranno comunque fare 1v9 Per vincere E la risposta di Papa Smoothie È Che punire I giocatori Per la loro Cioè nella loro vittoria È un topic Che già Anzi guardate Ve lo traduco pure qua Punire i giocatori Che vincono È un argomento Ricco di sfumature Da un lato Man mano che guadagni Matchmaking rating E avanzi di grado Incontrerai naturalmente Giocatori più Di calibro più elevato Che porteranno Un matchmaking Più giusto E questo È un punto Che io volevo dire Alle persone Cioè voi non potete pensare Di giocare sempre E vincere sempre E vincere facilmente Perché non è così Che funziona Più vinci Più sali Più devi beccare Gente forte E partite più difficili È vero Che le partite più difficili Dovrebbero essere più difficili Perché sono Tutti bravi Ma è anche vero Che non puoi avere Un matchmaking perfetto Dove sono tutti 0-0-0 Per 20 minuti Prima o poi ci sarà Quello che muore Tante volte Prima o poi ci sarà Quello che ha La giornata storta E questa cosa Andrà a pesare Sulle partite Ovvio che deve essere Di meno E siamo d'accordo Che non devono esserci Tutte le partite Con qualcuno 1-10 Però non è una roba Cioè non Non potete pensare Perché io lo so Perché tutti quelli Che si lamentano Stanno lì che pensano Ah devo vincere Sono forte E devo salire Non funziona così Non funziona così Sarebbe un gioco osceno Se tutti quanti Vincessimo quanto Vogliamo vincere È giusto perdere Ed è questo Che deve entrare In testa le persone Ciò che dovevamo Risolvere questa volta Era il fatto Che ti sentissi male Oddio ti sentissi male Vabbè Giocando bene In un gioco specifico Ecco Vedi quello che dice qui È che se io gioco Una bella partita E sto giocando bene E sto andando bene Sto facendo 10 11 12 0 E perdo Devo perdere Non Perché Nella squadra avversaria C'è un tizio 0-10 Che si suicida Sulle torrette Che nessuno riesce a fermare Ma devo perdere Perché Hanno fatto la giocata giusta Perché anche qualcuno Nella mia squadra Ha fatto una cavolata Che è frustrante Ma deve esserci una motivazione Più sensata Di qualcuno Che sta intando Sulle torrette Quindi è questo che dice Noi stiamo risolvendo Questo problema Il problema Di perdere le partite Per persone Che si comportano In questo modo Nel frattempo Cerchiamo di migliorare L'esperienza generale Potrebbero esserci Altri casi Che provocano La sensazione Di essere puniti Per aver vinto E dobbiamo valutare Ciascuno di essi Per le ragioni sottostanti Cioè vi faccio un esempio Quando noi diciamo Ho vinto 10 game Adesso lo devo perdere Per forza Lo dico anch'io Insomma mi succede Perché so Che vincendo tanto Prima o poi Andrò ad avere Dei match impossibili Il concetto è Che tecnicamente Parlando Quei match Dovrebbero essere Solo molto difficili Perché vado contro Giocatori forti Non perché Mi mettono in squadra Uno super mega debole Però ci sono dei momenti E delle volte In cui questo è inevitabile Perché Per fare quel discorso Che tutti quanti vorrebbero Questo Mondo utopico Utopistico Non ricordo mai Quale usare In quale frangente È impossibile Perché per prendere 10 giocatori Tutti e 10 Forti nella loro main lane Tutti e 10 Dello stesso rank Che giocano più o meno bene Che vanno quindi A creare Contemporaneamente Immaginate 10 persone diverse In 10 punti diversi Diciamo Del mondo per comodità Ma Che vanno a creare Una partita bilanciata Ma ne avete idea Di quanto è difficile Riuscire a creare Una partita bilanciata Con 10 esseri viventi Che vanno a giocare Al gioco E che si vanno A matchare Appunto Tra draft Early game Power spike Cavolate che fanno Le persone Scelte persone Secondo me Le persone Non lo pensano Devo solamente Vincere game Non ci sta Nessuno Che vinta la partita Perché sono troppo forte Non funziona così Un po' più di poliedricità Del pensiero Perché non è possibile Noi Si cerca Cioè noi Insomma Io magari Noi Però Queste persone Cercano di trovare Il giusto compromesso In questa cosa In quel Quello che è accettabile All'interno del Ti do qualcosa Ma devo prendere qualcosa Se in squadra ti do il tizio Che è stato top 1 del server È difficile Che l'altro Che un altro Nella tua squadra Sia il top 1 del server Probabilmente lo è contro Se capitano nella stessa corsia Può essere che stanno in pari Ma può essere pure Che uno quel giorno Gioca male E l'altro è fortissimo E dà molto più importanza Sulla mappa Oppure succede che Uno dei due Top 1 sta contro Una persona relativamente Meno forte Ed è normale Perché non possono essere Tutti top 1 E l'altro sta in un'altra corsia E quindi abbiamo Due corsie Completamente sbilanciate Tra di loro Ma non c'era alternativa Che andranno a dominare La loro corsia Il vantaggio Che quelle persone Porteranno poi Sulla mappa In base al loro campione Alla loro giornata Alla partita In questione Il vantaggio della partita E le altre persone All'interno della partita È tutta una variabile Che andrà a crearsi Quindi è impossibile Creare le partite perfette Che le persone cercano Successivamente Scendendo Se no mi allungo Veramente troppo Parlano del Del aver bannato Tra l'altro Circa 5.000 persone Che utilizzavano Il map pack O diciamo Sistemi di terze parti E quindi Siamo contenti Di questa cosa E poi qui si parla Del player behavior Fondamentalmente Dell'honor system E qui anche Da una risposta Che dice Che è qualcosa In cui Stanno guardando Cioè qualcosa Che vorrebbero fare È sulla loro lista E vogliono aggiungere Qualcosa che riguarda L'honor Dice qualcosa Che ha bisogno di tempo Perché non è solamente Il punire Le persone Che vanno Che fanno le cose Che fanno male Ecco insomma Che non Tipo tu fai Inti Ti punisco Ti levo l'honor Ok Non è solamente questo Dice Deve essere Con le differenze Con le regioni Cioè differenziato Tra le regioni E le preferenze regionali Perché comunque Ci sta Un sistema anche diverso Di come vengono gestite Queste cose Dobbiamo costruire Uno delle cose Più difficili Che viene fatta All'interno All'interno Di ogni gioco Cioè la parte Dell'honor Di questo tipo Di scelta Perché è molto importante Perché anche se Non lo dice qui C'è tutta la parte Psicologica Del quando è giusto Punire e basta Quando è giusto Riformare Ed è Questo pure Un topic enorme Sono però D'accordo con voi Che c'è più da fare Riguardo questo argomento E spero che Troveremo qualcosa Che muova Qui l'ago Però insomma Il concetto è Ci vogliamo Lavorare Ce l'abbiamo in lista Ma aspettate Ora la domanda riguarda Il ce l'hanno fatta Siamo tutti salvi È bellissimo È perfetto Il gioco No Tra l'altro Il video non è finito È solo cambiato Inquadratura Perché tanto Non avevamo molto Da far vedere E comunque Il concetto è Non è la salvata Che molti si aspettavano Non è la perfezione Il bellissimo Del salvatore Sceso Papà smoothie Ha salvato le ranked No Perché quello che hanno Risolto è tentare Di arginare Un problema grande Che è La manipolazione Delle statistiche in game In maniera estremamente negativa E che crea situazioni Orribili Come partite Di quel tipo Per un guadagno personale Di persone Che appunto Vanno con 80% 70% win rate Nel vincere Intando le partite Agli altri E infatti Voglio rispondere A un paio di cose Che ho letto Sotto il video Della patch notes Una persona ha scritto Hanno notato Il cambiamento Di questa situazione Del matchmaking E di quello che succedeva Ed è giusto Questo è il modo giusto Di scriverlo Lo hanno notato E stanno prendendo Delle mosse Insomma Delle considerazioni Mentre È sbagliato Dire Finalmente Hanno fixato Il matchmaking Non è vero Non è assolutamente vero È solamente il primo passo Verso un matchmaking Migliore E non sarà mai perfetto Come la maggior parte Di voi vorrebbe che sia Ed è questo anche qualcosa Su cui voi dovete lavorare Su come pensate Che debbano essere i game Come credete Che debba essere un game E Ditevelo Ditevelo a voi Cioè Vi raccontatevi Come vorreste Che fosse una partita E poi pensate È veramente fattibile Che siano sempre così Tutte le mie partite La maggior Cioè Se siete delle persone oneste O comunque Con una voglia Sensata Ecco La risposta sarà No Non è possibile E va bene così E va bene vincere E va bene perdere E onestamente Io credo che 4-4-5 stagioni fa Più o meno Non riesco a ricordare Anche se perdevo E anche se rosicavo Era ok come situazione Ci sono stati Sì sono migliori Sì sono peggiori Ma il concetto È rimuovere la frustrazione Del perdere una partita Perché qualcuno Si sta suicidando Intando Trollando E cose del genere Quella è la cosa importante Poi non possiamo Vincerle tutte E non dovremmo Vincerle tutte Inoltre vi ricordo Che le compagnie Di videogiochi Vogliono Che il matchmaking Stia intorno al 50% Perché se voi Vincete troppo Ve l'ho già accennato prima Non giocate più Dopo un po' Se voi perdete troppo Voi non giocate più Loro vogliono Che voi giochiate al gioco Che lo condividiate Che vi piaccia Che ci giocate tanto E che quindi Poi ci spendete i soldi Perché queste sono compagnie Che fanno i soldi Gli piacciono i giochi È vero Quello che mi pare Ma il concetto finale È sempre quello Quindi dobbiamo considerarla Questa cosa Ed è quindi giusto Che puntino A un qualcosa Che riguarda il 50% Sarà impossibile Avere qualcosa Di skill matchmaking Sempre presente Ci sarebbe una soluzione Riguardo al matchmaking Che potrebbe essere Più giusta Ma non piacerebbe Alla maggior parte Delle persone E ve l'ho già accennato In un altro video Ossia Quello di avere Un sistema Non basato Su questo matchmaking Rating interno Che quindi va a considerare Tutte quelle cose Che abbiamo visto prima Ma un sistema Basato sul rank E basta Cosa che sembra Essere così Ma non è così Cioè Sono in Smeraldo 1 Gioco solo Con player Smeraldo 1 Ovvio che È impossibile Farlo sempre Con la player base Giusta E le code Potrebbero diventare Troppo lunghe Però L'ideale sarebbe Cercare di spaziare Il meno possibile E far giocare I giocatori Con persone Nel loro stesso Identico rank Rank però Che non nasconde Dietro un matchmaking Rating Questo perché Alla lunga Ci sarebbe Un aggiustamento Del rank Con persone Che salgono E persone Che scendono Veramente Più onesto Il problema Di questa cosa È che a questo punto Ci sarebbe Tantissima Gente Che rimarrebbe A dei rank Molto più bassi Di quelli Che sono adesso E che capirebbe Quanto Non dovrebbe Salire di rank E che quindi Potrebbe essere Più frustrata E lasciare il gioco E torniamo al discorso Di prima Loro vogliono Che tu giochi Se il player Average Che tendenzialmente Sa sul Emerald In questo momento Non tutti Attenzione Non sto dicendo Tutti gli emeral Quella persona lì Che sta in emerald Che magari doveva stare In platino O doveva stare in gold E non c'è niente Di male Perché non tutti Possono essere forti Non tutti sono Allo stesso punto Nel gioco E tutti salgono In maniera differente O imparano le cose In maniera differente C'è gente Anche chi è forte Tra di noi E dico tra di noi Per modo di dire Non perché necessariamente Sia forte Ma chi è forte Tra di noi Non sarà mai Faker Probabilmente E perché Questo lo accettiamo Perché Faker è un mega Ora ho preso lui Ad esempio Ma altri pro player Perché è così mega forte Che mi sta bene Essere grand master Mentre lui è Faker No perché allora Dovrei dire Sulla stessa Ottica delle ranked No però dovrei essere Anch'io Omega challenger top 1 Riot fammi diventare Omega challenger top 1 No lo accetto Perché ritengo Che il grand master Sia un rank Ok E che essere faker Sia qualcosa di raggiungibile E ok anche essere Gold o platino E capire che In questo momento del tempo O anche Per sempre Insomma Ci saranno sempre Player più forti di me Che sono grand master Master o challenger Ed è questo anche Una cosa importante Capire il proprio valore attuale Io ho giocato Anche a League of Legends PC Il primo anno In cui ho giocato A quel gioco Il primo Secondo Forse anche Non adesso No forse Esprimi due anni Sono sempre stato Tipo bronzo silver E continuavo a flammare Gli altri Di Ah fate schifo Sempre colpa vostra Se perdo Il momento in cui ho capito Che era colpa mia E che io ho iniziato A lavorare su me stesso Sui miei errori Sul migliorare il mio game Su tutto quanto E' stato quello il momento In cui poi ho iniziato A salire a platino E a diamond Non che fosse questo Grande risultato Però Ha senso Ed era giusto Che io stessi In quel rank Solo che Adesso In questo momento storico La compagnia Non se la colla Di andare A fare Un sistema Che lascia Tantissima gente In bronzo Oro Platino Insomma Nei rank più bassi Per fare qualcosa Di giusto Per i player Competitivi in alto Perché i player Competitivi in alto Saranno sempre La minoranza Rispetto alla grande Bolla di casual player Che vuole vedersi Il ranchino bello Vuole vedere che sale Ogni season E vuole quindi giocare di più E comprare E spendere soldi Quindi non vi aspettate Cambiamenti di questo tipo E penso che vada Comunque bene Questo discorso Perché tanto Se giochi Abbastanza E impari A migliorarti Riuscirai ad avere Delle partite Ok Ed è quello Che dobbiamo puntare Ad avere delle belle partite Che dove riusciamo A divertirci A giocare al gioco E non sempre Saranno perfette E non sempre Avremo quello Che vorremmo Voglio poi rispondere A un commento Che non farò vedere Perché tanto Non è La persona Non importa Chi l'ha scritto Ma importa Insomma Volevo riprendere Un discorso Di questo commento Che è stato fatto Su un altro mio video Vi leggo un pezzettino Del commento E poi vi do Nel mio commento Qui dice Lo dico ora Ma magari mi sbaglio Non mi sbaglio Tra parentesi Forse questo È un po' too much Però Questa cosa del matchmaking È una pagliacciata Non hanno sistemato nulla Anzi hanno peggiorato La situazione Ora spiego tutto Inting Sion e Trinda È stato nerfato Da questo nuovo matchmaking Assolutamente sì Mettete via lo spumante Pausa Questo discorso È positivo Onestamente Il fatto che non abbiano Come vi ho già spiegato In tutto il video Non vuol dire Che devono Migliorare tutto Deve essere tutto perfetto È positivo Non dover giocare Con persone di questo tipo Quindi Sì Per ora è una cosa positiva Non voglio giocare in quattro Con un troll Continuo dicendo Siete stati penalizzati Anche voi player Normali bravi Mi spiego meglio Il matchmaking È alla base Esattamente come quello di prima Ed è quello che vi ho spiegato Poco fa Andiamo Vanno a rimuovere I casi limite Tre season fa Quattro season fa Quattro season fa Questo invece è una mia considerazione Abbiamo un Cioè avevamo Come vi ho anche detto prima Una situazione Molto migliore Di quella attuale Non dico che fosse perfetta E ci lamentavamo Ma era meglio Di quella attuale Proprio perché Questi casi limiti Erano molto molto più limite E molto meno presenti Continua poi dicendo Solo che adesso Le vittorie contano di più Nel conto dell'MMR Quindi il vostro MMR Quelle volte che vincete Carriando quelle persone Non hanno un po' A nerfare i toni Quelle persone Molto particolari Che vi trovate in squadra Perché il vostro KDA è alto I vostri gold per minuto Sono alti Tutto quanto è alto Viene alzato ulteriormente Quindi dalla serie Voi vincete Di più Quindi sale il vostro MMR E quindi adesso Continuerà il discorso Riguardo a questa considerazione Dicendo Voi vincete Sale il vostro MMR E state carriando persone scarse Attenzione L'MMR sale Se voi vincete Sale E' fatto così L'MMR deve salire Più che voi vincete Tanto da trovare Una partita Per voi impossibile Da vincere Perché è così che funziona Salgo 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 Il gioco dice Oh mazza è forte Devo Non è Cioè se io vado 12-0 in un game Il gioco deve pensare Cacchio è troppo forte Per stare con sta gente Deve stare con gente Più forte Fino a trovare Una partita bilanciata Nel momento in cui Perdo quella partita bilanciata Dice oh Finalmente ho capito Che il rank sta Per ora teniamolo In questo punto Dopo un po' Vi faccio un test Lo metto contro di qualcuno Più forte Vince Oh cavolo Si merita di salire Quindi vi fa salire di più Oppure Lo metto contro qualcuno Di più debole Oh cavolo Ha perso Allora forse Non valeva tanto Quanto l'ho messo in alto Questa è l'idea di base Poi con tutte le variabili Del caso che vi ho spiegato In precedenza Questo ovviamente Applicato a una dinamica Di squadra Quindi poi verrà creata Una media di MMR Di quella partita Però pure qui è una questione Ben complicata Continua poi L'ho messo a schermo Per fare più 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 comodo Perché magari non si capisce Quello che stavo dicendo E quello che stavo leggendo Ho cercato di cambiare i toni Ma va bene Quindi verrete puniti Ancora di più Per essere dei buoni giocatori Siete dei buoni giocatori Che carriate i pessimi player Ed avete in qualche modo Il 60% di win rate Perfetto Adesso avrete compagni Ancora peggiori Perché win rate Conta di più Grandi ragazzi Festeggiamo È stato così Per la maggior parte Delle stagioni Quello che sto dicendo Il mio commento È che è stato così Per la maggior parte Delle stagioni La situazione non era Assolutamente erosia Ma era migliore di adesso Il problema rimane La player base Minore di quei tempi Cioè maggiore Adesso è minore Di quei tempi Cioè Tutte le persone Che si lamentano in questo modo Devono capire Che la player base È inferiore E che questa cosa Continuerò a spiegarvela Finché campo Se non ci sono Abbastanza giocatori È più difficile Creare una partita bilanciata E non è Fattibile farlo O quantomeno Per farlo Magari ci dovrebbero essere Code anche di 20 30 o 40 minuti E non è fattibile Per un gioco Avere code di questo tipo Solo perché Ci sia il player Random Che ha Quindi una partita Bilanciata ogni mezz'ora Perché poi non ci giocate Al gioco Se è una partita ogni mezz'ora Quindi bisogna sempre Trovare un middle ground Non che termina dicendo Ah sì Probabilmente ci sta Un nuovo modo Per usare questo nuovo matchmaking A tuo vantaggio Con un nuovo account Ma voglio fare dei test Per vedere se ho ragione E mi sa proprio di sì Ma festeggiamo ora I player con lo 0.3 di KDA Non possono avere più Di 80% di WeRate Era quello il problema? No? No Questo punto finale Mi tilta Notevolmente Però Poi vorrei specificare Che non ce l'ho Con questa persona in particolare Ma ho utilizzato questo Perché era un buon commento Per far capire Quante cose sbagliate Ci sono come concept generale Nel Di come dovrebbe essere percepito Il sistema Ma le ranked e le vittorie e le sconfitte E quindi qui il mio commento È che questo punto finale È ininfluente In quanto c'è sempre un modo Di trarre vantaggio Da queste situazioni matematiche E siete sempre liberi Di cercare di trovarlo Io onestamente voglio solamente Giocare al gioco Come facevo prima Il concetto è che Non stai Cioè se tu stai cercando Un modo Per manipolare Le statistiche del gioco Per vincere di più Cioè non stai giocando al gioco Gioca al gioco Se ti trollano il game È successo Punto Devi solo sperare Che andando avanti Con un aumento Della player base Si spera Con un miglioramento Di questi sistemi Il numero di partite Trollate O intate Sia inferiore Ma comunque Perderemo le partite Perderete le partite Raga Perdete le partite È così Mettetevi l'anima in pace Perderete le partite E sarà così E va bene Ed è giusto così Non so quante altre volte Dovrò dirlo in questo video Va bene perdere Va bene trovare Situazioni dove Non andrà tutto come vogliamo L'importante è cercare di trovare Dei match Più bilanciati possibile Non saranno tutti così E accettatelo Comunque in realtà Mi sono dilungato Veramente tanto In questo video Probabilmente Ascianche un po' in ritardo Perché sono mezzo Giorno e venti Il tempo che lo edito Lo sistemo E lo appo Potrebbe essere uscito Un po' in ritardo Mi dispiace Per chi di solito Magari si accolla Video più corti Magari neanche arrivato Fino a questo punto Quindi se sei arrivato Fino a questo punto Dai Credo fosse molto importante E credo che la parte Veramente più importante Sia Reiterare quanto Cioè quello che Cambiare Il proprio punto di vista Su come dovremmo Quanto dovremmo vincere Tutta quella situazione Che vi ho già spiegato Quindi Sicuramente mi sono dimenticato Qualcosa Ma è stato veramente lungo Mi hanno interrotto Anche un sacco di volte Però vi ringrazio Per avermi accompagnato Fino alla fine In questo video Molto particolare Ce ne saranno magari Anche altri Non necessariamente Su questo argomento E spero che vi piacciono Questi video più lunghi Dove parlo e basta Anche se tecnicamente Parlo anche tutti gli altri Ma va bene Tagliamo corto qui Vi ringrazio per avermi seguito Fino alla fine Vi invito a lasciare un like Iscrivervi al canale Tutte quelle bellissime cose Vi auguro una buona serata Delle ranked giuste Non delle buone ranked Delle ranked giuste O forse buone Non importa E noi ci vediamo Al prossimo video Al prossimo video